Ciao a tutti ragazzi, sono Samu e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi saremo con Jacopo, saluta Jacopo. Ciao, ricordatevi di mettere in questo video mi piace e iscrivervi al canale, perché se arriviamo a 90 mi piace, Samu farà una serie su Minecraft. Va bene, già ho incominciato con Minecraft, ho fatto un video dove mostrevo la mia villa e dove costruivo una discoteca, ragazzi avete visto anche voi. E poi avevo giocato anche ad altri giochi. Vabbè oggi faremo fuori magazzino, io mi sono messo Deadpool, giochiamo dai. Ragazzi, comunque mi dimenticavo, se mi vedete Samu e il pro d'oggi è che mi sono cambiato nome, perché prima l'account non era mio, adesso è mio, raga, ok? Comunque se non stiamo facendo video a Matteo, credo abbastanza che ricomincerà con Samu e qualche altro giorno. Cosa? Mi sta avendo. Cosa Jacopo? Mi trovi a Matteo, mi sarei stavendo, provitemi di connessione, stai giocando. Ci siamo raga, sto caricando. Ragazzi, ragazzi, spero tanto, spero tanto che mi comprerò una skin, ragazzi, non lo so, non faccio promesse perché non lo so, raga. Ehm, non lo so, ragazzi, poi vediamo se mi comprerò una skin, va bene, poi vediamo, mi faccio promesse perché non lo so. Allora ragazzi, vuole fare delle live io, ma se vado su YouTube e premo diretta, dice entro in 24 ore, quindi o stasera o domani, poi vediamo, ragazzi. Faremo la challenge, se arriveremo o a 90 mi piace o a 100 mi piace, Samu e il mostro non la sua faccia, la sua faccia. No, 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 no. Non ho fatto niente. No, 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 no. Se avrò la disponibilità di mostrare la sua faccia. No, lo so già, non è possibile. Ragazzi, non credete a Jacopo perché è impossibile, non lo si può fare. Poi quando... Andiamo, e andiamo... Fra un po' di anni. Un corso va bene. Fra un po' di anni, fra un po' di anni lo farò. Oh, guarda qua! Cosa? Sì, è la grotta, è piena d'acqua. No, no, non c'è niente là, è piena d'acqua. Perché non c'è niente più? Perché? Ok, c'era un bug. Non lo sapevi già. No, io ormai sono qua. E da tanto che c'è l'acqua, non l'hai mai visto. No. Borcio. Che mi chiede? Sono Death Bull, ho la pistola, raga. Ci so. È la palestra. Finirà, si è infinito. Io la palestra è infinita. Annaggia. Dove sei? Dove stanno? Che pure una palestra. L'ho visto. Aiuto. Muori. Aiuto. Ehi, dammi pure, no? Jacopo. Va bene, raga, fra un po' di Jacopo ci richiama. Chiamami, va bene, Jacopo, chiamami. E vabbè, raga, non ci credo. Non ho risposto. Siamo morti, raga. Non posso farci niente. Eh, Jacopo, ho chiuso. Ragazzi, se eravamo in live potete farmi delle domande, però non siamo in live. Spero, fra un po' ci richiamo a Jacopo, spero, spero. Siamo morti. E mannaggia. Ma perché? Ma perché, raga, raga, perché? Scusa. Che golisti questi, raga, però. Si reflexe, e l'altro. Sembrano ego. Ah, no, non so, non è, non sono ego, scusate. Spero che stanno venendo. No, no, non so, non ho rischi, non ho preso la scheda. Grazie. Quindi anche quella degli apri, ci vedo. Vedete anche quella di Jacopo? Ma sono cechi questi? Ok. Adesso va, 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 vai, vai, coraggio. Eh, vabbè, questi non ci vorranno mai. Allora, allora, lo buttiamo. Ciao, raga. Ragazzi, ci curano. Niente, siamo morti, non ci curano. Dai, Jacopo, fuori. Ragazzi, mi è piaciuto il video che ho fatto ieri alle 9. Di notte, di sera. Che costruivo una discoteca su Minecraft. E facevo, e facevo una partita di forte che dato in 10 secondi. Mi ricordate? Ma spregati, è partita. Aspettate, non c'è una cosa. Se riesco... Ma no, non è con voi, eh. Non è con voi, è tanto che i caricoli è per me. Mi chiamiamo, Jacopo? Proviamo? È online. Vogliamo chiamare? Lo sto chiamando, eh, raga? Niente. Niente. Eccoci, raga, scusatemi se volevo... Ma ne ho... Ma qua non può. Però è in partita, eh? No, non ho anche visto. No, è che ho sentito anche... No, questo... Allora, una prima cosa. Annessa, eh, se ci legge... E poi c'è Juventus, 20 Turin. Ragazzi! Sì! Guardi, mi dico... Ecco, mi dico... Ecco, mi dico... Non ho... Non ho... A fortezza del mondo. No, no, a fortezza. Non voglio neanche. Non voglio... Tutti qua siamo andati. No, ma forse... Spero che mi richiamo a lui. Spero che mi richiama a lui. No! Che stupido... No, no! No, cavolo! Cavolo, 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 cavolo! Cavolo, cavolo, raga! Cavolo, cavolo! Ok, ho l'arma! Ho trovato l'arma! Sono armato! Amore, manancio! Ragazzi! Niente. Non lo ho. Non posso vedere, ragazzi. Ricordatevi ragazzi Iscrivetevi al canale Dovevo dire la fine Diamo ora Jacopo torna ai lobby Non ci sento Ragazzi che è una modalità Metti pronto Jacopo Non ci sente Annangia la misera raga Ragazzi Devo dire Aspettate due secondi Due secondi Perfetto Siamo pronto Ah è tornato È tornato Annangia Perché sono stupido Ok raga C'è un oro Ragazzi Voglio smoncare Razzo 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 No Ecco Jacopo Ragazzi scusate per la musica Ciao Jacopo Ragazzi scusate Sentivate la musica Eh vabbè da dieci minuti Che non ero in video Ragazzi comunque scusate per la musica Era la mia sonneria E' la mia sonneria Mi chiamo Ciao Jacopo Il mio microfono raga Ragazzi Non c'è da pure il microfono Se non parlo troppo Forte Eh? Sta salendo l'acqua Sale e scende Sale e scende Allora vuol dire che ci sarà un altro vento dell'acqua Non lo so raga Perché non mi è vicino troppo al microfono Ragazzi Spero di non andare Andiamo qua Un tablo Si è lago No non è lago Si è più Lo so Oggi non stiamo andando a parco Sì Perché da ta 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 Sempre andiamo a parco Oh a caso Ma se già andiamo La 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 sepie Se andiamo a sepie Ok Se l'ha bloccata Non me lo faceva togliere Anche solo qualcosa Io prima ho fatto due vittorie reali di fila Due In singolo Si Dura No vabbè In tre eravamo C'era mio fratello E l'amico di mio fratello In tre Si Quindi due vittorie reali avete fatto Si amico Sono morto Sono morto Perché ho un nemico A un barret Al barret Perché sono sovortunato Ok Ho trovato la pistola Dov'è? Anche io Ho la stessa Io ce l'ho questa già Ce l'ho questa Jacopo Ok Di qua nemico Colpito venti Bravo Dove sei nemico? Eccolo Eh vabbè Ragazzi Perché sono scemo Oggi siamo supernambi Dai Siamo supernambi Oggi Che c'è? Aspetta Aspetta che c'è Magari c'è qualche unico Aspetta No 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 Niente Dai giochiamo Giochiamo raga Perché forse è un'acchia Che non so se un'acchia Ma non dico stupidaggine Che non so Manco so Cerco ancora la prossima partita 56 minuti Un minuto è passato Non è passato A me dice 23 A me dice 23 A me dice Adesso dice 30 Adesso c'è Adesso c'è la schermata Di alla deriva Jacopo guarda Mi è schermata Di alla deriva Guarda io Ah si Qui pure Con il cielo Quella Una Ragazzi Se Arriveremo A 100 Mi piace Farò Una Scelta Se Samuel Farà Creativo Contro Alberto Ce sarà Tipo Noi Saranno Tre squadre Su creativa 3 E 3 O 2 O 2 E che sarà Il terzo giocatore Vorremmo così Una modalità Arriveremo A 100 Mi piace 100 Mi piace Poi Scusa Ma è poco Questa cosa Che ti ho detto E poco Anche se Mi piace Noi Noi Vabbè Fortezza Dobbiamo andare Vabbè Ma perché mi avvicino al microfono Sono stupido E Perchè Non lo scopio Sono tre persone Quanto vorrei essere in live Quanto vorrei essere in live Quanto cavolo vorrei essere in live Vuoi essere tantissimo Vuoi essere tantissimo Vabbè Non lo stanno facendo live Perchè Non può fare Live Non c'è Non c'è la finanza Allora Ascoltavi me Raga Dice Io se vado su youtube E dice Diretta Noi apriamo 10 entri 24 ore Poi vediamo stasera Poi controlleremo stasera Magari Se non è tardi Se non è domani Io ho un cerchino Allora C'è una bananita E' un altro E' un altro suo amico Sono morto No No Ho zero di scuola Che kill raga Che kill Che kill Che s'era successo Ma però che non vincita la mia clavora Sono un cratino Siamo L'ultimo L'altro pochino E poi ce ne andiamo in zona Sì Allora ragazzi Dobbiamo vincere Cavolo E' vero Abbiamo perso tutta la magazzina Ma non dobbiamo vincere In oro Dobbiamo vincere In oro Perché è tutto dorato Perché è tutto dorato Raga immaginatevi Un tizio Che ha delle armi leggendarie Se potevano vendere Immaginatevi Se potevano vendere le armi Codegnavi i BAPS Cent hanno rimesso per caso predato scusate che c'è sta musica c che 3 3 nello non mi servono questo non fucire da salti 3 non mi sembra di più il predator non ho fatto il predator ragazzi no vabbè raga metti minuti e non abbiamo fatto un cavolo ma cos'è sto musica si è però cos'è sta musica non è che non c'entrò caso per caso il personale in un gas adesso la investito l'aria URA PUTTORO! URA PUTTORO! URA PUTTORO! Che cosa di URA PUTTORO! URA PUTTORO! PRO 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 PRO! NO! NON MI FASSO DIRÀ! SCAPPIAMO! Mamma mia! CHE INSEGUIMENTO! CHE INSEGUIMENTO! CHE INSEGUIMENTO! ECCO! CI STANO SEGUENDO! ABEI ANDACCENE! SALI VELOCE! CI STANO I RAPTOR! SALI! ANDIAMO VIE DA QUI! I RAPTOR! Scusa Gallina! Scegliamo basta! Speriamo che non ci esegueranno più! Sì non stiamo in zona! chat questo è mio! E' questa cosa! Vole prenderemo bene! next la mano ancora c'è a montagna i sapi! andiamo via! C'è una gallina come è capitato a domari! devo trovare un medita! non ho capito le uova l'emico due amici io cerco di cecchinarli che cecchinata che cecchinata siamo dei pro no altra gente non hanno abbastanza ecco me la metto merikit no 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 mannagio ragazzi è partita ma si vuole 30 minuti di video ragazzi che è che l'epica che ho fatto con quel cecchino sono full perfetto c'è un nemico vabbè che aveva finito la benzina ma mannagio non l'ho colpito che cosa hai nemico si c'è un nemico dove hai segno eh aspetta non posso ci sta andando io pure non è che sono male eh ragazzi voi avete da proprio con la cecchinata che ho fatto a cocoda granate 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 ucciso dobbiamo andare in safe erano in zona sicura però andiamo in zona sicura ma io di più c'è tua macchina ecco siamo morti questa è la nostra fine anche se moriremo sarà una partita epica anche se moriremo sarà una partita epica è stata una partita epica ecco siamo morti ecco la nostra fine no meno cerchi nato ecco ecco la nostra fine sono morti a morire dalla tempesta addio amici c'è un mene che può sopravvivere ma io no io non ci sopravvivo io mi sono fatto il medikit ah pure i nemici il trumento no ecco sono un genio viene ancora un po' sono morto io io sono morto Jacopo ancora vivo ma io sono morto addio amico mio no non ce la fai ragazzi siamo morti non ce la fai 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 ragazzi torniamo in lobby e chiediamo sto video ragazzi non ci posso credere eravamo in un bel punto facciamo un'altra partita no oh con un'altra partita 28 minuti Sì dai 29 minuti che siamo in video Salutiamo Aspetta che vi ho detto le cose Nuove che ho sbloccato Siamo detto le cose nuove Fuora 4 livelli il blocco L'azio Allora Ragazzi spero tante che questo video Vi sia piaciuto Siamo partita è stata epica Lasciate un like attivate la campanellina E poi se i momenti ho la mia foto di vita reale Però ci siamo impegnati Ricordatevi mettete un mi piace Potete mettere quanti ne volete Perché io regalerò A ognuno di voi un biglietto Dello splash Ti farò fare una serie a Samuel Cosa? Ti farò fare una serie Su minecraft Ciao E ragazzi E ragazzi E ragazzi E ragazzi Una battaglia